Benvenuti a MeteoGiuliaci.it. Domani mercoledì 23 maggio ancora pioggi su Alpi Centro-Orientali, Friuli, Romagna, Marche, regioni del Basso Tirreno ed Isole Maggiori. Il tutto ancora per effetto del vortice di bassa pressione giunto domenica. Ma vediamo la mappa del satellite virtuale, vedete le nuvole che ancora ricoprono molte regioni dell'Italia. Che tempo allora farà dopodomani. Questa è la situazione del mattino, vedete un po' di piogge sulle Venezie, sulle Dolomiti, sull'interno del centro, piogge anche sulla Campania, sulla Calabria, sulla Sicilia e sulla Sardegna. Bel tempo sull'Emilia, quindi buone notizie per il Ferrarese. Andiamo a vedere il tempo per il pomeriggio. Al pomeriggio direi identica situazione, rovesce sulle Alpi Orientali, qualche pioggia sulla Romagna, piogge più diffuse invece sulla Campania, sulla Lucania, sulla Calabria, sulla Sicilia e sul sud della Sardegna. Le temperature massime previste per dopodomani? Bene, in rialzo addirittura di 4-5 gradi sulle regioni di nord-ovest dove le temperature massime raggiungeranno valori tra i 24 e 26 gradi, farà insomma un po' caldo sulle regioni di nord-ovest. Temperature in rialzo di 2-3 gradi anche al centro e comunque al centro-sud valori massimi tra i 20 e i 22 gradi. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto. Ancora un buon giorno.